Allora, scusatemi ma è un inventario così disordinato, io non ho video dall'avanti di Cristo Benvenuti ragazzi, siamo tornati su questa serie dove andiamo a vedere gli stadi Abbiamo visto prima lo stadio, l'arena, non mi ricordo male il nome, come cazzo si chiama Scrivete nel commento Ehm, poi abbiamo visto due stadi, anzi quattro, quanti erano, non mi ricordo Che ho fatto io E anche se li ho registrati cinque minuti fa, però stighazzi No, non li ho registrati ieri E oggi andiamo a vedere lo stadio del Real Madrid, ora non è più così, è cambiato Però io ho la vecchia versione, quindi questo è il vecchio stadio Devono ancora fare quello nuovo su Minecraft, quindi per ora ci accontentiamo di questo, ok? Non rompetemi le palle, grazie Allora io, invece di entrare direttamente nello stadio, volevo vedere cosa hanno di questo Oddio E iniziano a parlare, giustamente, quando registro io Voi da questo, beh, in casa mia, sono dei Dei grandissimi test di... eh Perché quando io non registro, stanno in silenzio Quando sanno che sto iniziando a registrare, iniziano a parlare, ad urlare No, bari vecchia Eccolo qua, il Santiago Bernabéu Mamma mia Che spettacolo È forse uno degli stadi più belli che... forse l'ho già portato in un video Forse tempo fa l'avrò già portato in qualche video Non mi ricordo, perché è passato di tempo Però, porca vacca, se è bello il Santiago Bernabéu, signori Guardate quanto è grande, quanto è immenso E comunque, non è tutto questo Per ora sul canale, perché questo è il più grande forse per ora sul canale Ma poi, domani, vedrete uno stadio Che neanche voi sapete che è stato costruito Questo è il visuale dall'ultimo posto dello stadio Bernabéu Il campo si vede bene Forse per colpa di quello e quello Però si vede bene il campo Ed è spettacolare Ma chi è che riempie pure questi posti? Non ho mai sentito uno stadio così pieno da riempire fino a questi posti Fino a quest'altezza, mai Forse qua in curva nord In curva sud, curva nord mi pare La visuale viene un po' rovinata No, no, invece no Perché c'è questa cosa avanti Però non da nessun fastidio Forse ti limito a vedere la curva sud O la curva nord Vabbè No, questa è la curva nord E questa era la E questa è la curva nord E niente Qua stanno le panchine Di giocatori Adesso andiamo a vedere Sì però pure l'aspirapolvere Ma dai ma cos'è Andiamo a vedere Cosa c'è qui dentro Allora Qua c'è un free room Cosa c'era scritto Non l'ho detto Ah ok, ok No, un free room Officio E' un po' la stessa cosa Sì vabbè ma qua sta succedendo il casino Che cazzo Mentre io le giusto Ovviamente deve succedere tutto Allora Questo abbiamo qua Aiuto che mi ricordo Quello Qua abbiamo quello Questi sono gli spogliatoi Ecco Queste sono le vasche Ah Sì Le docce Le vasche Sta un po' di tutto Qua nel Bernabeu E Mi sono fatto il giro di prelustazione Dentro lo stadio Nel Camp Nou Perché Ve l'ho spoilerato ormai Sì il prossimo Il Camp Nou di Barcellona Ed è una cosa enorme E' immenso come stadio E' immenso Poi ve lo fare Ve lo farò vedere Questo è per la luce Questo mi pare che la sala Cioè dove fanno Gli allenatori spiegano Come devono giocare Tutte Questa sarà la lavagna E Di certo non c'è caressa Quella lavagna Però Se c'è caressa Sarei molto felice Allora Questo è lo stadio Che è una cosa immensa Però domani Ci vediamo Al Camp Nou di Barcellona Il Camp Nou di Barcellona C'è la lavagna